Quest'occasione di incontro effettivamente sono molto importanti per poter confrontare le esperienze soprattutto in un periodo di cambiamenti e di flessibilità che viene richiesta alle varie iniziative. Quindi avere la possibilità di vedere le realizzazioni, confrontarsi con chi opera praticamente sul mercato per quanto riguarda noi in sede tecniche è molto utile. Posso dire che come Binini Partners noi abbiamo cercato di anticipare un pochino i tempi cercando di costruire progetti di ricerca e di innovazione veramente nuovi che possano diventare utili per il cambiamento che è in corso e per il rinnovamento molto importante in Italia in particolare delle strutture sanitarie e per il sociale.